Ciao, vi lascio subito al video, ma vi anticipo che dopo parleremo di una nuova serie targata Prank, come sei messo? Paolo! Paolo! Prank! Paolo! Prank! Paolo! Prank, vieni qua, Prank! Vieni qua! Non c'è scoppio la mia cura! Per favore! Aiutateci! Aiuto! Vieni qua! Disney ha annunciato un accordo con Netflix per la realizzazione di alcune serie televisive live action e una miniserie con protagonisti i personaggi Marvel, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage. Queste nuove serie saranno trasmesse a partire dal 2015. Netflix si proporrà con almeno 4 serie di 13 episodi ed una miniserie dal titolo The Defenders. Anche voi fateci sapere cosa ne pensate e già che ci siete passate dalla nostra pagina Facebook e mettete un mi piace pagina Facebook anteprima cinema. Ciao e alla prossima!